Quando si tratta di donne, ogni uomo ha una sua strategia. Ecco quella di Danny. Per anni ho finto di essere sposato. Mia moglie mi picchia davanti ai bambini. No, sei un porco. Ma adesso... Giuro che questa è una cosa seria. Ho sentito bene quello che hai detto. Per avere una storia con una ragazza così... Sei sposato! No, 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 no! Ha bisogno di trovare il modo... Di lei che hai chiesto il divorzio. Devo sentirlo dire da lei. Se ti mandasse un sms? Di raggiungere nuovi livelli di menzogna. Vuoi che sia tua moglie per finta? Voglio creare l'illusione che ho avuto una prima moglie sexy, non così. Ah sì? Va bene, ci sto, andiamo. Columbia Pictures presenta. È quella? Credo di sì. Hai la mia benedizione. Mando un mestagino alle amiche. Dimenticavo, hai 15 anni. Hai! Mi hai dato un calcio? Io no. E tu? Quando torno a casa, signorina, facciamo i conti. Hai dei figli? Prendere in prestito i miei figli? Ti sei bevuto il cervello? Vi piacerebbe fingere di essere miei figli? Posso parlare con l'accento? Fammelo sentire. Ponto? No. Perché non mi porti a Yahweh a nuotare con i delfini? Non se ne parla. Allora trovati un altro. Me la farei anch'io una falsa famiglia per questa. Mia moglie per finta. Da quanto siete sposati? Dieci anni. Dieci anni. Comunque è un'eternità. Dieci anni. Grazie a tutti.